Bentornati all'appuntamento con le pillole di Deutzfar. Oggi io e Matilde vi parleremo del motore. Tutta la Serie 5 Keyline è equipaggiata con i motori Far Motion a 4 cilindri da 3,9 litri di cilindrata. Il modello 75 risponde allo Stage 5 senza necessità di blu, mentre gli altri modelli sono dotati di un after treatment completo. Le tre potenze disponibili offrono ampia possibilità di scelta per adattarsi alle esigenze di ogni cliente. In un range da 75 a 106 CV ognuno può trovare la giusta potenza per questo trattore tuttofare. L'iniezione ad alta pressione e il controllo elettronico del motore migliorano le prestazioni, riducono i consumi e aiutano la Serie 5 Keyline a reagire alle variazioni di carico. La ventola viscostatica installata di serie lavora in funzione della temperatura dell'aria, adattandola a velocità di rotazione. Questo riduce gli assorbimenti di potenza e riduce la rumorosità percepita in cabina. In cabina abbiamo due pulsanti memoria giri motore per impostare i regimi utilizzati più di frequente, una funzione utile soprattutto quando si lavora con la presa di potenza. Per quanto riguarda la manutenzione, l'intervallo cambio olio è di 600 ore e la regolazione automatica del gioco delle valvole aumenta l'affidabilità. La pulizia è semplice grazie alla possibilità di estrarre schermi di protezione e condensatore dell'era condizionata. Il sistema di after treatment è esente da manutenzione, ad eccezione del DPF, che in caso di intasamento richiede una rigenerazione da avviare semplicemente premendo un pulsante in cabina.